La provincia di Lucca sblocca risorse per oltre 5 milioni di euro per pagare aziende e professionisti che hanno lavorato per l'ente nel 2014 e soprattutto si riallinea sui tempi di pagamento delle fatture accorciando i tempi del saldo. Si tratta di 300 milioni e 300 mila euro in pagamento già da qualche giorno e ulteriori 2 milioni di euro che saranno saldati nelle prime settimane di marzo. L'annuncio lo ha dato nel corso di una conferenza stampa il presidente della provincia di Lucca, Stefano Baccelli il quale insieme con il direttore generale dell'ente Riccardo Gaddi ha anche affrontato la questione della situazione finanziaria di Palazzo Ducale in relazione all'ultima legge di stabilità e in particolare al prossimo ed effettivo passaggio di molte competenze provinciali alla regione. Sì, credo davvero una straordinaria boccata di ossigeno per tutto il mondo delle imprese e dei fornitori qualcosa come 5 milioni e mezzo di euro che pagheremo nei prossimi due mesi per 85 tra aziende e fornitori in un periodo di crisi economica quale perdura credo davvero che sia un segno tangibile di una risposta concreta da parte dell'amministrazione provinciale che significa anche che negli ultimi due anni abbiamo erogato pagamenti per circa 40 milioni di euro e che da oggi in poi potremo finalmente pagare tutte le fatture entro 60 giorni.